È stato il Teatro di Verdura a Palermo ad ospitare la prima tappa siciliana di L'Italien de l'Opera. La compagnia di danza è nata da un'idea di Alessio Carbone, primo ballerino del corpo di ballo dell'Opera di Parigi. Il tour continuerà il 4 agosto al Teatro Antico di Tormina. Il galà ha una durata complessiva di 1 ora e 40 minuti e mette in scena alcuni strati di assoli e passi doppi in stile classico, neoclassico e contemporaneo. L'Italien de l'Opera è nato 5 anni fa a Venezia, al Teatro Malibrand. Un primo spettacolo con una standing ovation del pubblico che mi ha fatto pensare che questo gruppo, tutti ballerini italiani e tutti appartenenti all'Opera di Parigi, potesse girare anche in tutto il mondo. E così è stato. Da 5 anni abbiamo delle bellissime tournée in giro a Brasile, Nuova Caledonia, siamo stati in Osbekistan, chiaramente un po' in tutti i paesi d'Europa e non tantissimo in Italia. E quindi sono veramente felice perché quest'estate faremo un tour italiano. E iniziamo proprio con Palermo, la città di Andrea Sarri, il nostro giovane ballerino palermitano prodigio all'Opera di Parigi. E sono felicissimo di presentare questo tour, dove ci saranno estratti del repertorio classico e il repertorio contemporaneo. Per la maggior parte passi a due, a soli, passi a tre, con le musiche più importanti del repertorio. E sono felicissimo di poter ritrovare il pubblico italiano e presentare questi meravigliosi ballerini italiani. Quest'anno sono felicissimo di tornare qui in Sicilia a ballare per la seconda volta con gli italiani. L'anno scorso sono andati a Taormina, nella quale ho ricevuto un riconoscimento come ballerino italiano all'estero. E devo dire che sono molto contento quest'anno perché è la prima volta che vengo a ballare a Palermo. E sono molto felice di condividere con tutte le mie famiglie, con tutti gli amici, questo momento così magico. Perché per me è la prima volta e sarà bellissimo. Porterò a Palermo tre pezzi, uno classico, uno contemporaneo e una creazione che ho appunto creato per Taormina l'anno scorso. Vi aspetto tutti allo spettacolo, ci vediamo prestissimo, un bacione grande. Grazie a tutti.